Allora, lui viene da Sarmede, si chiama, penso, Alberto. Qual è il tuo sogno? Quello di poter ripartecipare al Gifoni Film Festival. Ho visto che questi ragazzi sono preparatissimi e sanno il fatto loro e questo festival spero che continui a vivere. C'è stata l'election la più importante della mia vita, di poter trovare questo figlio che ho portato in me stesso. Grazie.